Metto in registrazione E quando mi metto sul lettino, bimbo, cosa vuol dire? Che sto per aprire un po' di pacchi Ecco, adesso mi raccomando il focus sulla coda di Mirta, videocamera Tra l'altro, sono appena andata a suonare No, Mirta! No, Mir-Mirta! Adesso a suonare al ragazzo che sta lavorando qui sopra Perché è dalle 9 di questa mattina, anzi, dalle 8 che stanno trapanando Ma sono andata super gentile perché io tra poco, oggi è mercoledì Anche se per voi non è mercoledì, per me è mercoledì e quindi ho la live di fitness tra poco Adesso gli ho detto, scusa, ma fino a che ora hai da trapanare? Perché alle 5 avrei una diretta di fitness? No, no, tranquilla, per quell'ora te lo stacco così puoi fare la tua diretta Cioè, no, ma ci mancherebbe la rimanda? No, no, vai tranquilla, è da satina che ti martello, eh, sì E allora sembra che abbia smesso adesso E quindi ho un'oretta per fare questo video Buongiorno, mi amate mussole, come state? Spero tutto bene, io sono Sabri Qui c'è il mio lozzo Quando mi metto in questa postazione è perché sto aprendo le cose che mi mandate la nostra casella postale Quindi i vostri segni, le vostre elterine, i vostri regali La casella postale è qui sotto in descrizione ma sta apparendo qui sotto pancia Andrei ricordati di metterlo Quando andiamo alle poste a ritirarlo, tra l'altro, hanno scoperto chi siamo Perché l'ultima volta andava sempre Ale E mi dicevano, Sabri, cavolo, ogni volta mi dicono che è troppa roba, troppa roba Allora, l'altro giorno, una tipa mi dice Ma posso chiederti che cosa fai? Perché qui arrivano 10 pacchi al giorno, 20, 30 E allora l'ho un po' spiegato e hanno capito Per portarmi un po' avanti, ho già aperto i pacchi Li ho rimessi nelle buste, alcune elterie le ho già tirate fuori Perché voi non avete idea di quanta roba io abbia sul balcone Cioè, le cose che vedete ora In realtà ne ho ancora 10 volte tanto sul balcone Ma non è che posso aprirne 100.000 al giorno E quindi mi sono portata avanti E adesso iniziamo a aprire le cose Speriamo che ci siano anche dei velari per cocco, eh Speriamo tanto Allora, apriamo la prima busta Che arriva, fragile c'è scritto Arriva da Letizia, Parma Magari c'è anche qualcosa per il nostro cucciolo Vediamo Oh, ma Letizia, quanta roba ci hai mandato Oddio, raga C'è sicuramente qualcosa per Bimbo Aspetta, prima vediamo la lettera Wow, questi sono i tuoi animali Per Sabri Lei, Letizia Ah, ma è grande È una pussola di 19 anni Wow, Letizia Adesso guardiamo cosa c'è Aspetta, Bimbo Allora, le mollettine con i gatti Per apprenderci le cose Wow, questo è un'episla È per Alessio Quindi lo mettiamo qui E glielo diamo dopo Questi immagino siano per me Ma sei bravissima, raga Le vostre relazioni sono spaziali Sono entrati anche i portachiavi Ah, questo è per Niki Sì, che mi dice sempre Ma per me non c'è mai niente Sì, questo è per te, Niki Poi sono i Cubix Sembrano dei Lego Quindi li darò assolutamente ad Alessio Sabri e D'Ale Un bacio ed un saluto da Parma Vi adoro Letizia Vediamo cosa c'è Che bella la calamita La metteremo subito sul frigorifero Ma non è finito C'è qualcosa qui Da taglie Oh mio Dio Tuo pino per i gatti Pallina dura E poi Ah, mia quanto sono astordito Bimbo Vieni a prenderlo Vai amore Grazie Leti È tutto bellissimo Andiamo avanti Qui abbiamo Da Giovanna Vediamo Giovanna Giovanna mi manda una mascherina Nuova Una Salem, spostati Una letterina che ho scritto privata Ovviamente Delle Non sono caramelle Sono maschere compresse Per il viso Voglio assolutamente provarle No, non sono per te Giù Gogo vuole avere tutte le mie cose Salem, non puoi fare il gargoyle C'è il tuo muso nero Ho trovato questo disegno meraviglioso Guardate che bello Da Da Matilde Che mi chiede anche Ha due cose da chiedermi Le mie amiche Tra virgolette Mi escludono E io non riesco a giocare con i maschi Perché corrono troppo Amore Diglielo alle tue amiche Non dovete star lì a soffrire Dovete diglielo Ditelo anche alle vostre insegnanti Che sicuramente troverete Come risolvere E poi Qual è il tuo personaggio preferito Di Harry Potter? Il mio è Cedric Di Gori Del quarto film Io non mi ricordo Chi è amore Quindi dirò Che il mio preferito È Harry Potter Grazie Poi dalle buste Mi sono uscite queste matite Non mi ricordo il nome Ma tanto sicuramente Leggerò la sua letterina Poi abbiamo Mittente Jacopo Di Marco Jacopo Non mi avevi già scritto? Ciao Sabri Sono sempre io Ah ecco Mi ricordavo di sé Mirta Spostati Mirta Sposta Mirta Via Sto facendo un video Jacopo mi ha usato Come Come sfogo Nel senso Ogni giorno Mi scriveva qualcosa Ma che bello Da quanto non vedevo Gli scubidù Ci ha fatto anche due scubidù E questo è un bracciale Che vende al Mar Rosso Che bello Grazie E questo è il suo disegno Chi abbiamo qui? Domenico Ci ha mandato delle magliette Ah ma io ho capito Chi sei Certo che ho capito Chi sei Ho capito che magliette Tu sei quello che fa Le magliette strane Le magliette parodie Vero? La ringraziamo Per il suo acquisto Da Nerdover Nerdover Lose Al posto che è Nerdover Dose Nerdover Lose Il miglior sito Di merchandising Nel deep web Godetevi le vostre magliette Sabrina Alessia Non abbiamo mica il vostro indirizzo Di casa No ok Stiamo scherzando Cioè sto scherzando Sono Doniz Famoso per Taroccare le magliette Per i miei biscotti Non lo so come si scrive Su una cartolina Ma mi annoiava Blah 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 Che dire Godete le vostre Le vostre fantastiche magliette Nuts Scritto Nuts Dai ma non ci credo Ma che belle Bellissime Sono già i peli di sale Non si sa come Sono già i peli di sale Questa la tengo qui E dopo gliela farò vedere ad Alessio Jennifer Jennifer Che bella questa foto con Ale Bellissima Per Sabri e Pica La lettera E poi questi due bellissimi portachiavi E un sole calamita Adoro Riempiamo il frigo Beatrice Da Calviate Cambiate l'ecco Mi sono stata due volte Questa è Bea Ma quante cose carine Che ci fate La lettera E un bellissimo disegno Devo chiudere la finestra Altrimenti non si vede niente Questo è di Irene 14 anni Che dice che mi segue Da quando aveva 7 anni Non voglio romperlo Perché sembra un quadretto Ma che bello Grazie Sto prendendo un po' di regali E volevo far tenere qualcuno Allora Questa pussola grande Ti mando tutto questo pacco Guarda il tuo amico Le magliette NUTS Bellissime Questa è la tua Con le noci Con le noci E' bello Ma interroccate Qui abbiamo qualcosa di grosso amore Da Fabio Magari Fabio è il papà Non lo sappiamo C'è una busta Ciao Sabriale Io sono Viola Abito in provincia di Ancona Voi siete speciali Perché fate dei video fantastici Io e il mio papà Con il papà Vi guardiamo tutti i giorni Visto che il mio papà E' un sarto Wow Ho deciso di disegnare Delle camicie E le ho fatte cucire Da mio papà Per voi Spero che vi piacciano Wow Vediamo amore Ah questo è il portacamice Dentro la camicia Ma non ci credo Vabbè ciao Ma bellissime Ma voi farei Anche come piace a me Wow Io no Io ho il colletto normale Si vede che Siccome non abbiamo detto Ma che figo No Facciamo il video Con queste camicie Ma fate il profumo Che hanno Che buonissime Le ha fatte il papà A mano eh E' un sarto Ma no Ma bellissimo Questo le metto Alla prossima parodia Mi sta da dire Stupende Stupende Grazie amore Grazie al papà Grazie davvero Un regalo Veramente inaspettato E bellissimo Adesso lo tengo Su per tutto il video Andiamo avanti Vediamo se c'è qualcosa Anche per Ormai in tutti i pacchi C'è qualcosa anche per te Te lo dico eh Marcella Ci manda Oh mio dio Qualcosa per cocco Per cocco Palenino Palenino del WWF Vai amore E poi Sì Vediamo Le nostre foto Nella busta Con la lettra Con la lettra Segreta Un disegno Ah l'anello per sposarmi Amore non sei geloso Mi vuole sposare Ed è le creazioni pisla Prendi il prossimo Oddio c'è qualcosa Per bimbo Per cocco È un pupazzo Oddio che bello Questo Mi sa che gli piace molto Mi hanno usato un orecchio Lo hanno usato tutto Vai a prenderlo Qua c'è Un disegno per Ale C'è scritto PS Ale ci dispiace Ma non ci ricordiamo Il tuo logo Hanno usato un pallone Però ci assomiglia Sì Questo è per te Poi ti do Tutti dopo Vai vai Che noi finiamo E questo è il nostro disegno Ale come sei sexy In questo disegno Da Nora E Camilla Con anche un bellissimo libro Anzi È un'agenda Con i gatti Oh mi sono aperte Un po' di cose Allora abbiamo qui Linda Ariel E io E il tipo Che trafana sopra E mi sa che mi sono persa Dovrebbe essere questo Mi sono persa Un po' di lettere Quindi ve le faccio vedere tutte Questo qua È da Elisa Poi abbiamo Carlotta Che vi manda una lettera Con anche un regalino Un braccialetto No è per me amore Altro disegno Con un bracciale Stupendo Fatto a mano E qua è Gemma In provincia di Brescia Che mi manda Questo Insieme a Ho trovato una calamita Della Sardegna Forse è di Gemma Verrà messa Ovviamente sul figo Qui abbiamo Elisabeth Da Udine Che dentro Ha fatto un collage Con tutti Tipo i nostri video Le nostre figurine Ma che bello Grazie amore Isabella Mi manda questo disegno E delle cose Fatte da lei Con le sue manine Nicole Wow Nicole mi manda Un sacco di cose Allora qua Qua ovviamente c'è la lettera Privata Ma che belli Questo bracciale per me Questo bracciale per Alessio Qui c'è la carta di Charlie Brown Proprio ora Devo la tramanare Qui mi sa che c'è qualcosa di Fragile Ma che carino È Salem Devo toglierci Tutto questo cotone Mi sa che è fatto a mano da lei Guardate che bello Salem So che Salem So che Salem È il preferito Di molti di voi Salemotto Furbacchione Da Giulia Giulia mi manda questi Che cosa sono? Allora dice Sono un paio di canzoni Che ti ho dedicato Per ascoltarle Devi scannerizzare Questi codici Su Spotify Voglio provare subito Vediamo Ricerco Esegui scansione È partito qualcosa La stoppo Perché altrimenti Mi prende il copyright Ma che figata Non la sapevo questa cosa Adoro Grazie Poi abbiamo Questo bellissimo Black Nuts a popcorn Con dentro le foto Dei micini E questa calamita Fatta a mano Del nostro tatuaggio Adoro Ma sei bravissima Giulia Guardate che brava Qui abbiamo Gaia Che compie gli anni Il 17 giugno Il giorno dopo di me Quindi devo ricordarvi Di farti gli auguri Che ci manda anche Un po' di creazioni E delle altre cosine Grazie La nostra vittoria Bello Ciao Sabri Sono Luca E sono un tuo fan Ti seguo da 4 anni Un'altra da Luca Grazie Luca Ho molto piacere Quando mi scrivono i maschietti Perché sono un po' più timidi È più difficile Che invino queste cose Quindi sono molto contenta Quando lo fate Poi abbiamo Irene di 9 anni Grazie Con l'anello Fatto da lei Per sposarmi Ma certo Che ti sposo E anche questo disegno Letterina Da Marta La sorella di Luca Che carino Poi abbiamo Giulia Lei Che ci manda La calamita Del suo paese Dall'Aquila Un disegno E la lettera Super privata Anna 10 anni Che ci manda Il suo disegno Per Sabri E Nicol Da Evandalina Oh che nome particolare Ah devo tagliarla E darne metà A Nicol C'è anche Il disegno Questo qua è bello Questo l'hai fatto Con i pastelli A cera Io lo so Lo so Grazie Però la sua parte Anche a Nicol Da Elisa Bistone Amore Ma sei tu Ma sei bellissima Con la carta di Frozen Mi manda Un fumetto Di Topolino Grazie Amore Il tuo fumetto E anche Un disegno Con un regalino Qui da aprire E una farfalla Uno scatolone Uno scatolone No L'ho aperto al contrario Allora Qui abbiamo Abbiamo un tipo sopra Che scorreggia Oggi è la giornata Dei Topolini Questa tipo È una mystery box Allora Sono queste qua Delle l'Ikea Che profumano Una pallina per Coco Prendi l'amore Ma ve lo viziate troppo Questi pane Ma quante cose Il giochino di Frozen Ale adora Frozen Una matita arenna E per Coco No è per me La colla per gli slime C'è praticamente Qualsiasi cosa Grazie amore Da da Ne Grazie Questo ce lo mandano Maddalena E Margherita Insieme alla Buongiorno Alla cartolina Alla calamita Di Massa Carrara E bello Il pistola Con logo di Ale Star Wars E un disegno Grazie Giada Che bel disegno Mi manda anche l'anello Per sposarmi E altri disegni Adesso fai parte Dei pandini Carino Ma qui quante cose Abbiamo Aiuto Ci sono due bracciali Star Wars Fatti a mano E la Sabri Che sono fatti da Linda Dieci anni Ci sono anche dei disegni Ma sei bravissima Questa è per Ale E questo è mio Viola Sofia Viola Sofia Ci manda Un braccialetto Una scritta in pistola E questo disegno qui Grazie Caterina ci manda Questa lettera Meravigliosa Con anche La calamita Di Firenze Dei pistola E una ricetta Per il fluffy slime Mi serviva amore Grazie Ultimo Arriva da Deluxe Di Vignoli Victor Wow Ma qui c'è Del lavoro dietro Ragazzi Ciao Sabri Sono Sara Noi ci siamo incontrate Una vita fa A Rimini Alla fiera del wellness Ho un negozio Deluxe Cesenatico Un momento Difficilissimo per noi In Romagna Spero che potremmo uscire Da questo buco nero Ti mando Vediamo una maglietta Vediamo che bella Ma no Ma è super carina No amore Questi non sono per te Fatti a mano Da Deluxe Cesenatico Stupenda Grazie mille Con anche Un bracciale Grazie Mi piace da morire Io anzi Ringrazio tutti voi Che ci avete mandato Tutte queste meravigliose cose Tutti quelli che ci hanno mandato Ma ancora non abbiamo aperto Perché sul balcone Siamo pieni Strapieni Tutti quelli che ce le manderanno E tutti quelli che non vogliono Mandarcela Se il focus non c'è Scusate ma sapete che Goggo me lo ruba sempre Noi vi ringraziamo tanto Vi mandiamo un bacione Ci vediamo domani Con il prossimo video Basta Tra bagare Ciao 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 Ciao